400 kg. In Italia 70-80 kg in certi laghetti è abbastanza comune. Questo pesce è stato importato per due motivi, uno per le dimensioni e l'altro perché filtra il cibo. Praticamente mangia come una balena, non mangia solido, mangia solo planto in sospensione, perciò tutti i laghetti a pagamento e quant'altro, soprattutto negli anni 70-80 li hanno importati e immessi. In Thailand ho visto esemplari anche di 400 kg, in Italia 30-70-100 kg, dipende un po' dall'ambiente, dal tipo d'alimentazione che hanno ed è veramente difficili da apprendere. Esistono un sacco di tecniche, io personalmente ho fatto uno studio tramite i pescatori orientali e mi sono fatto spedire questo giocatolino qua. Vi farò vedere come funziona dentro l'acquario, adesso vi faccio vedere un paio di pezzi che ho preso io, in foto ce ne ho solamente uno, comunque vi faccio vedere, sempre con questa tecnica, dopo vi farò vedere come funziona. Ecco, questo sono io, ovviamente più giovane, questi sono altri pezzi che ho preso, questa è la foto del profilo di YouTube, questo è un temolo russo, qui staremmo sui 10-12 kg, infatti era in un piccolo laghetto. Comunque, come ho detto, può arrivare a dimensioni veramente, veramente notevoli. Allora, questa tecnica qua è micidiale, se manza non potete sbagliarlo, non potete. L'unica cosa di negativo, limitativo, e dipende da dove pescate, se ho un lago abbandonato non c'è nessun problema, però se ho un lago a pagamento, eh sì, il problema sussiste. Perché? Perché? Perché si devono usare per forza un sacco di ami, lavorando su, per alimentarsi lui aspira, perciò praticamente cosa facciamo? Non mettiamo le esche, mettiamo un sacco di amici, la pastura la riponiamo all'interno, non so se si vede bene, la pastura la mettiamo all'interno di questo contenitore, soprattutto, di regola io uso base formaggio per il mare, si mette dentro questo contenitore, vedete? Qui non metto assolutamente nessun'esca, verme, grano, niente, assolutamente niente. La pastura va all'interno, dentro il contenitore. Cosa succede? Che, quando lanciate, praticamente la montatura è la classica all'inglese, quando lanciate, la pastura, quando arriva a contatto con l'acqua, comincia a disciogliersi, in planto, o comunque molto fine. Quando il pesce arriva, risucchia, 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 bam! E viene, risucchia anche gli ami e aggancia. Non si, con questo metodo qua, non si può sbagliare. L'unico limite è che se fatta la pesca tosto a lobby, non sempre i gestori dei laghetti vi danno il consenso di pescare in questa maniera qua. Anzi, quasi mai, anche perché di regola hai sempre un amo senza ardiglione. Si può fare anche con un amo solo. Spesso e volentieri l'ho fatto. Così. Però il limite è... il limite c'è. Ho visto un sacco di partenze, ma ovviamente il pesce non si aggancia, perché avendo una bocca che può essere tranquillamente più di 22 centimetri, aggancia la pastura, ma non viene agganciato di sotto. Di seguito alleggo un video, fatto un po' di tempo fa, perché da un po' che non faccio sta pesca qui, della mia cattura. E all'incirca il peso del pesce è stimato sui 30 kg. Adesso un attimo e lo faccio partire. Ciao ragazzi, campanellina e cliccate mi piace. Ciao ragazzi, campanellina e cliccate. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.